Alla luce delle misure restrittive in atto che riguardano gli assembramenti e i movimenti delle persone, è stato pubblicato un decreto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti della CEI, con cui si aggiorna, su mandato del Santo Padre, le indicazioni generali e i suggerimenti già offerti in un precedente decreto dello scorso 19 marzo per la disciplina delle celebrazioni della Settimana Santa. Il decreto della Congregazione stabilisce che i Vescovi e i Presbiteri evitino la concelebrazione e celebrino i riti della Settimana Santa senza concorso di popolo. Nell'interlocuzione della Segreteria Generale della CEI con la Presidenza del Consiglio dei Ministri si è rappresentata la necessità che per garantire un minimo di dignità alla celebrazione, accanto al celebrante, sia assicurata la partecipazione di un diacono, di chi serve all'altare, oltre che di un lettore, un cantore, un organista ed eventualmente due operatori per la trasmissione in TV o in streaming. Su questa linea l'autorità governativa ha ribadito l'obbligatorietà che siano rispettate le misure sanitarie a partire dalla distanza fisica. Il decreto chiede che i fedeli siano invitati a unirsi alla preghiera nelle proprie abitazioni anche grazie alla trasmissione in diretta dei vari momenti celebrativi e alla valorizzazione di sussidi curati per la preghiera familiare e personale. Per quanto riguarda le espressioni della pietà popolare e le processioni, il decreto affida al Vescovo diocesano la possibilità di trasferirle a una data conveniente. Propone, a titolo esemplificativo, il 14 e il 15 di settembre. I Vescovi della Toscana, scrive il Cardinale Giuseppe Vettori, Arcivescovo di Firenze e Presidente della Conferenza Episcopale Toscana, invitano i sacerdoti e le loro comunità ad accogliere con disponibilità le indicazioni contenute nei suddetti orientamenti della CEI e ad attuarli con fedeltà segno di comunione ecclesiale.